in questa puntata ti voglio parlare di quello che potrebbe esserti richiesto da scrivere e produrre se devi utilizzare un drone all'interno di un cantiere specialmente se si tratta di un'opera pubblica questo è l'episodio numero 48 e tu stai ascoltando il podcast di 3d metrica ciao e benvenuto benvenuta io sono paolo corradeghini e questo è 3d metrica il podcast dove si parla di topografia di rilievi di misure di strumenti di software di elaborazioni dati di mappe di geomatica e di cartografia nella puntata di oggi non parliamo non ti parlo proprio di queste cose che ti ho elencato in questa specie di sigla piccola sigla introduttiva ma ti parlo di qualcosa di leggermente diverso ma che in qualche modo è legato a tutto quello che ti ho detto perché ti voglio parlare di quello che potresti dover scrivere o mettere nero su bianco e presentare quando entri all'interno di un cantiere edile con un drone quindi quando ti viene richiesto un servizio che prevede l'utilizzo di un apr all'interno di un'area di cantiere specialmente se si tratta di un'opera pubblica ci sono alcuni soggetti che sono interessati dallo svolgimento di un'opera pubblica o di un cantiere in generale facciamo il caso dell'opera pubblica che è quello che ti voglio portare come esempio è quello che forse ha la fattispecie di casi un po più ampia rispetto all'interno della casistica dei cantieri edili edili adesso mi dirò uno o l'altro e ti ringrazio già per la pazienza ci sono vari soggetti il il rup e il dse il des sono fanno parte della stazione appaltante cioè sono i soggetti che gestiscono la l'opera pubblica lato stazione appaltante quindi un ente pubblico c'è il coordinatore per la sicurezza c'è il direttore lavori c'è l'impresa ci sono una serie di figure che dialogano tra di loro e devono essere al corrente di quello che succede in cantiere e è opportuno spesso comunicare con loro se entri in un cantiere con un apr con un drone se lo utilizzi per lavorare per un servizio che ti viene richiesto prima di parlarti di questo aspetto di parlarti di adempimenti più o meno formali cose che puoi scrivere o che puoi dire a voce ma sarebbe meglio scrivere ti ricordo soltanto che trovi tutti i riferimenti per quello che riguarda 3dmetrica all'indirizzo web www.3dmetrica.it lì ci trovi tutte le puntate di questo podcast video tutorial che si rifanno al mio canale youtube gli articoli del blog e tutti tutte le coordinate per metterti in comunicazione diretta con ho scritto un articolo proprio sul blog di 3dmetrica che ho qua davanti al video mentre sto registrando questo podcast mentre ti sto parlando che si chiama usare un drone in cantiere comunicazione alla dl al cse e al rup è stato un articolo che io ho deciso di scrivere condividendo come faccio spesso all'interno del blog di 3dmetrica e anche qui nel podcast una mia esperienza personale che ho avuto quando mi sono avvicinato quando ho lavorato all'interno di un cantiere edile e quando mi sono confrontato con le figure che ruotano attorno a un'opera pubblica perché di opera pubblica si parlava mi sono stati richiesti alcuni documenti relativi all'attività che avrei fatto all'interno di questo cantiere questo articolo è stato letto abbastanza io non sono un grande appassionato e un grande nerd di quelle che si chiamano le vanity metrics cioè di andare a vedere quante persone hanno letto il mio articolo oppure quante persone mettono un like in un post davvero non le guardo queste cose però ho avuto dei riscontri su questo articolo ho avuto dei messaggi diretti da persone che hanno letto questo articolo che mi hanno dato il loro punto di vista per cui ho pensato che potesse essere utile fare una puntata del podcast perché questo articolo questo argomento si presta ad essere discorsivo quindi trattato in maniera discorsiva proprio come accade qui sul podcast utilizzando soltanto la mia voce io dovevo fare un rilievo fotogrammetrico ho fatto un rilievo fotogrammetrico all'interno di un cantiere si tratta di un cantiere non troppo esteso abbastanza complesso in termini di aree di cantiere aree di scavo aree di riporto aree di manovre mezzi posizione e presenza di mezzi con delle parti in elevazione quindi gru la presenza di camion autocarri con cassone ribaltabile parecchi operai parecchi maestranze al lavoro e anche ditte diverse perché c'erano delle lavorazioni specializzate specialistiche che erano state subappaltate quindi un cantiere non enorme ma abbastanza complesso e quindi essendo un'opera pubblica c'erano vari soggetti che ruotavano professionalmente intorno a questo cantiere e erano dovevano essere informati comunque dovevano essere al corrente di quello che succedeva nel cantiere i soggetti sono questi te ne ho parlato brevemente in premessa lato stazione appaltante quindi lato ente pubblico si tratta di un'opera pubblica da parte di un comune esiste il RUP cioè il RUP che è il responsabile unico del procedimento che è chi sta lassù ma lassù in senso buono all'interno dell'opera quindi chi tira le fila sia da un punto di vista dell'avanzamento dei lavori del bilancio quindi dell'economia dell'opera e fa un po da hub da punto di riferimento per tutti gli altri soggetti che sia formalmente che operativamente lavorano all'opera il RUP spesso si può valere di aiuti e in caso anche di servizi quindi in caso ci sia un affidamento di un servizio quindi non un'opera pubblica forse qua sto un attimo facendo un passo oltre il limite di quello che è l'argomento di questo podcast comunque ci può essere il DESS il direttore esecutivo del servizio che coordina le attività operative sul campo e poi si interfaccia direttamente con il RUP lato esecutore lato esecutivo c'è sicuramente l'impresa quindi c'è l'impresa o le imprese a seconda che sia un'impresa singola o un raggruppamento di imprese che lavorano in cantiere quindi avranno i loro responsabili il responsabile tecnico dell'impresa che si coordina direttamente con il RUP e poi ci sono altre due figure che sono molto importanti che fanno un po' diciamo così da ponte adesso non vorrei dire delle delle cose delle castronerie ma ci sto cercando di semplificare molto questa parte che è legata all'opera pubblica ed è molto complessa sia da un punto di vista della normativa che dalla giurisdizione anche civile e penale c'è il direttore dei lavori che è una figura che viene incaricata dal responsabile del procedimento quindi dall'ente appaltante e ha l'obbligo a il compito quello proprio di dirigere i lavori quindi di fare in modo che i lavori vadano così come sono stati progettati ha un progetto esecutivo in mano l'impresa svolge i lavori e il direttore dei lavori controlla che sia tutto ok verifica che vengono fatte le analisi prescritte se si utilizza dei materiali particolari verifica i certificati dei materiali insomma c'è veramente tante cose che deve fare il direttore dei lavori è una figura estremamente importante all'interno dell'andamento di un'opera pubblica di un'opera e poi c'è il coordinatore per la sicurezza in lo specifico in fase di esecuzione lui ha il compito di prendere il piano di sicurezza e coordinamento che è stato redato da un'altra figura durante la progettazione che è il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che abbreviato si chiama anche csp che ha fatto un'analisi di quelle che sono le lavorazioni desunte dal progetto quindi lui si è guardato il progetto ha capito quale sono le lavorazioni perché sono descritte nel progetto ha valutato lo stato dei luoghi ha valutato come sono fatte cioè com'è l'area dove si lavora e ha fatto un'analisi dei rischi che ci possono essere sia per chi lavora in cantiere ma anche per chi è vicino al cantiere quindi eventuali persone terze persone che sono non interessate dai lavori ma potrebbero esserlo perché ad esempio un camion esce dall'area del parcheggio così come ha valutato i rischi che l'area esterna può portare dentro il cantiere ad esempio tutta la parte legata agli eventi atmosferici e ha redatto un piano che cerca di valutare le possibili pericoli e le possibili le necessarie cautele necessari interventi che devono essere presi messi in atto per evitare che questo possa essere un danno verso chi è dentro il cantiere ma chi è anche immediatamente nelle zone limitrofe insomma ci sono queste figure che sono figure importanti e che lavorano insieme all'interno dell'andamento durante l'andamento dei lavori di un'opera pubblica come puoi immaginare un cantiere allora un cantiere fa storia ogni cantiere fa storia a sé ci sono cantieri diversi in condizioni diversi in ambienti diversi che prevedono delle lavorazioni diverse ma il cantiere in linea generale è un posto dove succede qualcosa di particolare di non comune comunque il cantiere è un un'area dove qualcosa sta cambiando ci sono dei cambiamenti in corso e questi cambiamenti sono diciamo il la fine dei lavori quindi quando tu come cittadino come passante come persona che furisce di un luogo vedrà l'area cambiata e questo succede perché durante questo cambiamento persone mezzi hanno lavorato in quest'area per cambiarla ci si può scavare in un cantiere e ci si può movimentare la terra quindi ci possono essere delle zone dove si fanno delle buche fisicamente con degli scavatori o dei mezzi pesanti e si possono portare da una parte in attesa di essere ritrasportati di nuovo da un'altra parte ancora ci possono essere dei mezzi pesanti che sono in circolazione ci possono essere delle strade addirittura nel cantiere a cantieri molto grandi hanno un'illuminazione all'interno del cantiere che è fatta proprio per per permettere i lavori ci sono dei professionisti ne ho conosciuti alcuni che spesso fanno dei progetti di illuminazioni specifici per le aree di cantiere che hanno bisogno di illuminazioni particolari anche se sono temporanee perché alla fine del cantiere con l'illuminazione lì a volte verrà tolta e quindi si ripristinerà ripristinerà si ripristineranno i luoghi così come erano primi in prima in termini di illuminazione possono lavorare tante persone ci possono essere dei rumori alti chi è lì è lì perché l'opera sta andando avanti ed ha il proprio contributo all'avanzamento dell'opera ci possono essere maestranze operai fornitori ispettori controlli tecnici ci possono essere davvero tante figure che sono coinvolte nello svolgimento di un'opera pubblica si possono usare anche gli esplosivi in cantiere se tu ti trovi a lavorare in una cava in una cava di marmo non è capitato diverse volte di essere in una cava di marmo durante durante i distacchi di bancate di materiale tramite esplosivo quindi capisci non sono cose per niente banali il cantiere ha delle ha una fattispecie di di cose che ci possono succedere che possono essere pericolose lo sono per chi ci lavora lo sono per chi ci si avvicina lo sono anche per chi è abituato a lavorare in cantiere anche la stessa la stessa maestranza lo stesso le stessi operai che sono abituati a lavorare in quel cantiere lo fanno ormai da tanto tempo perché quell'opera pubblica sta andando avanti da tanto posso sono comunque a rischio e è tutta un'area che ha una grande suscettibilità a il danno nei confronti di persone e di cose che ci stanno dentro è un'area dove sicuramente possono succedere delle cose più rischiose rispetto ad altre zone che adesso non parliamo di sport estremi o di cose che uno può scegliere di fare diciamo facciamo riferimento alla normalità di quello che è intorno quando non che ne so cammini per strada o porti o vai in macchina su una strada normale o passeggi all'interno di un'area pedonale questo per intendermi e darti un'idea di quello che può succedere in un cantiere però immagino che tu sappia benissimo che cosa succede un cantiere perché tanti cantieri sono visibili basta affacciarsi un attimo da espiare ma spiare in senso buono tra i buchi delle recinzioni ad alta visibilità arancioni e ti rendi conto di cosa può succedere dentro un cantiere se tu porti un cantiere in un cantiere un drone perché devi fare delle operazioni di qualunque tipo chiaramente autorizzate o concordate con i soggetti che lavorano in quel cantiere devi fare in modo devi devi stare attento devi avere delle accortezze e devi e devi far sì che chi è in cantiere sappia che ci sei anche tu e gli devi in questo modo spiegare che cosa farai come lo farai in che modo lo farai e quanto tempo ci metterai questo è quello che è successo a me quando mi sono avvicinato a un cantiere dove dovevo fare un rilievo fotogrammetrico per aerofotogrammetrico per fare un rilievo poi restituire un rilievo topografico che fermasse in quel momento la topografia dei luoghi l'avanzamento dei lavori e mi ci sono sono mi sono avvicinato ai responsabili della di quest'opera pubblica che ti ho citato prima dicendo facendo presente ero chiaramente avevo un incarico da parte di uno di questi comunicando quello che avrei dovuto fare e lì ho avuto delle richieste delle richieste formali da parte della direzione lavori quindi del direttore lavori che aveva bisogno di sapere che cosa avrei fatto quanto tempo ci avrei messo e che zone avrei interessato quindi quale fossero state le zone che sarebbero state interdette da parte delle macchine e degli operai il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione forse era quello che aveva bisogno di più informazioni più specifiche perché essendo lui il responsabile della sicurezza anche della mia sicurezza che non c'entravo niente con l'impresa non c'entravo niente con la stazione appaltante doveva valutare quello che gli portavo dentro il cantiere e doveva valutare quello che sarebbe successo con una presenza di un drone all'interno del cantiere che svolazza sulle aree in relazione al drone stesso a me e a tutto quello che è all'interno del cantiere quindi macchine operai e tutte le persone che ci lavorano dentro e in più anche il RUP aveva bisogno di una una sorta di documento formale da mettere agli atti dell'opera pubblica forse lui era quello che aveva meno urgenza necessità però da un punto di vista operativo forse il coordinatore per la sicurezza e il direttore lavori erano quelli che ne avevano più necessità prima quindi non cinque minuti prima di entrare in cantiere ma un po di tempo prima per fare le proprie valutazioni i propri programmi e proprie eventuali cambiamenti di operazioni o interventi in termini di sospensioni localizzate in alcune aree o addirittura sospensione totale del cantiere se avessero ritenuto che soprattutto il coordinatore per la sicurezza che scusa dato un colpo al microfono che quello che stava per succedere poteva che sarebbe successo sarebbe stato tra virgolette pericoloso e quindi avrebbe meritato una sospensione dei lavori io ho avuto questa triplice richiesta quello che ho fatto è fare un unico documento che poi ho consegnato tutti e tre in modo tale che fosse il più completo possibile e che includesse tutto quello che mi è stato richiesto in questa puntata vorrei darti un'idea di quello che ho scritto in questo documento che è un documento formale che quindi ha un linguaggio formale io non sono un grande fan dei formalismi e delle comunicazioni formali ma in questo caso ci sono degli ambiti in cui è necessario usarlo questo è uno di questo è uno di questi quindi ho scritto una nota formale dove ho fatto una serie di comunicazioni e adesso te ne voglio un attimo parlare prima di dirtelo però ci tengo a dirti che questo documento che io ho preparato non ha niente a che vedere con tutta un'altra serie di documenti che sono formali d'obbligo in alcuni casi un po' meno d'obbligo in altri casi in cui però non voglio entrare perché non è questo il caso non è questa l'ambito in cui forse entrarne o meglio potrebbe esserlo ma mi richiederebbe un po' troppo tempo e mi piacerebbe farlo con qualcuno che si occupa di sicurezza in maniera estremamente più avanzata di quanto non possa fare io non faccia io non abbia fatto in passato un po' di piani di sicurezza e coordinamento le ho fatti però non è davvero ora il mio campo specifico ci sono una serie di documenti come il post il piano operativo di sicurezza il duvri il documento unico di valutazione dei rischi interferenti poi c'è l'analisi dei rischi che viene richiesta a un operatore come operatore iscritto ai registri enac figura professionale che lavora con una pr che richiede la valutazione dei rischi nell'ambito della propria missione e nell'ambito di quello che c'è in quella zona e che c'è intorno questi documenti sono documenti che non chiaramente non sono scollegati da tutta questa questione anzi ci sono intimamente collegati ma io non ne voglio trattare adesso perché sono documenti formali hanno dei loro schemi per essere redatti e devono seguire dei degli indici dei copioni particolari non ne voglio entrare in questa in questa parte perché quello che mi è stato richiesto è stato un documento formale che spiegasse che cosa io avrei fatto in quel cantiere e potesse mettere in tutte le figure che ci lavorano in in condizione di dire ok siamo pronti per accoglierti in cantiere quando tu lavorerai noi sapremo cosa fare sapremo dove andrai e tutte le persone che noi dovremo coordinare saranno pronte a riceverti oppure faranno dell'altro in altri momenti in altre zone rispetto a quello in cui volerai col drone farei delle delle altre attività che richiedono comunque i tuoi spostamenti a terra quindi linguaggio formale la prima parte una premessa io direi che la premessa è d'obbligo quindi in un documento formale una premessa sicuramente importante quindi tu dici il perché stai scrivendo questo documento e che cosa conterrà questo documento la premessa è importante perché se questo documento ad esempio capita in mano di una persona che non è interessata a quello che stai facendo oppure un collaboratore del RUP prende in mano la contabilità dell'opera pubblica e legge il tuo documento dalla premessa capisce già che magari quello che tu hai fatto è già successo e non non è importante valutarlo leggerlo e archiviarlo in quel momento per cui sa che quel documento lo può mettere da parte perché dalla premessa capisce che non ci sono dei contenuti rilevanti per la sua attività in quel momento specifico i luoghi sono sicuramente una parte che devi esplicitare quindi tu devi dire dove volerà il drone quale sono le zone dove volerà il drone il mio consiglio è quello di utilizzare il più possibile elementi grafici quindi un qualcosa che metta le condizioni in condizione le persone che leggono il tuo documento di capire immediatamente e inequivocabilmente dove volerai hai due possibilità per utilizzare per fare questi elementi per costruire questi elementi grafici una e credo che sia la migliore è quella di utilizzare il progetto esecutivo se c'è un'opera pubblica c'è un progetto esecutivo generalmente se c'è un'opera in corso c'è un progetto che è stato redatto un progetto a una planimetria generalmente quindi tu puoi prendere quel progetto esecutivo che è il disegno o sono i dati o sono le informazioni su cui la ditta si basa per fare l'opera e puoi disegnare lì puoi individuare lì direttamente le aree in cui volerai oppure se questo non ce l'hai se non hai la possibilità di accedere a questi dati potresti utilizzare una mappa di google e dare un'indicazione delle zone in cui lavorerai in due lavorerai in senso in che farai volare il drone e sarai fisicamente presente a terra utilizzare google però ha il problema che se stai lavorando in un cantiere molto probabilmente se il cantiere è grande il cantiere sta cambiando qualcosa rispetto a quello che c'era prima e la mappa di google molto probabilmente non è aggiornata su quello che è effettivamente imposto per cui potrebbe non essere così banale individuare le zone rispetto alla mappa di google è molto meglio secondo me credo che sia anche molto più appropriato utilizzare la planimetria del progetto esecutivo lì ci devi mettere le zone in cui il drone volerà e le zone in cui sarai tu come pilota a fare a condurre i voli del drone se il cantiere è piccolo presumibilmente avrai una zona in cui piloterai in cui farai il decollo e l'atterraggio del drone in cui starai tu come pilota e poi la zona in cui volerà il drone se il cantiere è grande potresti avere più zone interessate al volo e anche più aree in cui farai il decollo del drone in quel caso lì le devi indicare tutte ma non solo io credo che sia opportuno opportuno anche indicare eventualmente gli spostamenti che farai tu come pilota o a piedi o tramite dei mezzi utilizzando o meno la viabilità di cantiere per spostarti da un punto di pilotaggio all'altro in questo modo tu stai dicendo a chi è in che il tuo drone volerà in una zona e tu sarai fisicamente in una due tre quattro x zone che identifichi come aree di decollo se l'area molto grande quello che ti consiglio di fare è di dividere le aree in cui il drone volerà e i tuoi punti di decollo di dividere di dargli un ordine sequenziale perché nella parte successiva che è quella relativa al cronoprogramma dell'operazione tu dirai che inizierai con l'area 1 decollerai dal punto di decollo 1 e poi ti sposterai alla 2 3 4 in questo modo con una piantina sotto mano chi legge il tuo programma delle operazioni sa quali saranno i tuoi spostamenti nel tempo se utilizzi un drone in un cantiere potresti anche non necessariamente anzi non è detto che tu faccia soltanto aerofotogrammetria potresti fare dell'altro potresti fare delle ispezioni potresti anche fare soltanto delle fotografie dall'alto per fare una sorta di giornale diario dell'andamento dei lavori a tempi prefissati quindi tu dovresti dire che cosa farà il drone in corso che cosa farà il drone in cantiere scusa se fai un rilievo fotogrammetrico potresti dire che il drone eseguirà una missione di volo e se hai fatto una missione di volo programmato perché ti è possibile farlo magari allegare anche fare mettere sulla planimetria le traiettorie che seguirà il drone in volo se fai un rilievo di una parte che è in elevazione ad esempio un rilievo di una facciata di un fabbricato dirai qual è l'area che viene occupata dal drone in volo nel suo movimento verticale se devi fare un'ispezione potresti fare ispezione delle di un traliccio di un'ispezione di una struttura dovrai indicare quali sono le zone che il drone andrà a ispezionare e come farà l'ispezione quindi potrebbe esserci la necessità di fare un volo in cui il drone per la maggior parte del tempo rimane fermo o fa dei piccoli spostamenti che è molto diverso da un rilievo fotogrammetrico dove il drone si muove a velocità variabile comunque decisa la te preventivamente ma comunque si muove all'interno dell'aria dire anche a che quota vola il drone è diverso avere un drone e ti assicuro che è molto diverso avere un drone che vola a 50 60 70 metri di quota sul terreno che non avere un drone che vola a 10 metri di quota sul terreno specialmente se nell'area hai delle gru hai dei autocarri del cassone ribaltabile hai dei cavi aerei per l'approvvigionamento idrico o molto è molto diverso per cui di anche qual è la quota di volo del drone quindi devi descrivere quello che farà il drone e come lo farà in termini della sua posizione nell'aria stessa cosa vale per te che cosa farai tu probabilmente come pilota starai fermo in un punto ma se devi fare un rilievo fotogrammetrico e devi mettere a terra dei target prima di volare probabilmente dovrai spostarti nelle zone di cantiere e mettere a terra dei target individuo qual è la posizione di target individuola per due motivi perché puoi dare delle informazioni al direttore lavori sulla posizione di questi punti che non devono interferire con delle lavorazioni in corso magari per tutta la durata della giornata ti assicuro che se ti parcheggiano un camion sopra un target prima di aver acquisito la fotografia dall'alto ebbe quel target non lo utilizzi nella modellazione fotogrammetrica ed è un punto perso anche qua utilizza la planimetria di cantiere la planimetria del progetto esecutivo e metti la posizione dei target dentro in modo tale che tutti sappiano in maniera immediata dove metterai questi punti e dove non devono andare a interferire con questi punti a terra stessa cosa vale nel post volo o comunque tutto quello che riguarda l'extra volo se tu e qua ritorno sempre al rilievo fotogrammetrico se tu fai un rilievo fotogrammetrico avrai una zona un periodo in cui volerai e un periodo in cui target a terra li andrai a rilevare digli al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al direttore lavori che tu ti muoverai o a piedi o con un qualche mezzo con il tuo ricevitore satellitare oppure avrai due persone una che sta alla stazione totale fissa in un punto e l'altra che va in giro con il prisma a battere i punti e andranno a rilevare i punti che sono sparsi sul territorio diglielo perché così sapranno che quando il drone ha finito di volare ci sarà ancora qualcuno che in giro per il cantiere a fare qualcos'altro che comunque rientra all'interno delle operazioni per cui tu sei lì e sei in posto poi c'è una parte importante che riguarda l'identificazione le generalità favorisca le generalità i documenti se tu lavori con un drone devi essere registrato ad enac indipendentemente dal fatto che utilizzi un mezzo trecentino senza la necessità di utilizzare di pilotarlo con un attestato di pilota ossia che utilizzi un drone più pesante quindi sia che sia un'operazione non critica sia che sia un'operazione critica ma in cantiere a meno che non ci siano condizioni particolari le operazioni sono sempre critiche condizioni particolari tra cui l'utilizzo di un drone inoffensivo comunque è opportuno identificarsi così come la stazione appaltante richiede tutti i dati all'impresa che dovrà fare i lavori così è normale che tu debba consegnare dare i tuoi dati al coordinatore per la sicurezza al RUP soprattutto in questo caso al direttore lavori quindi dovrai dire chi sei come operatore APR chi è il pilota se è diverso da te e quali sono i mezzi che userai io generalmente ci alleggo anche l'assicurazione dei mezzi alleggo a questo documento il mio attestato di pilota APR e la documentazione che è relativa alla visita medica perché in questo momento in cui ti sto parlando è ancora richiesta la visita medica per pilotare APR che sono superiori a 300 grammi di peso per cui alleggo tutti questi documenti in modo tale che ci siano le mie generalità come operatore e pilota di APR agli atti e quindi tutti quanti sappiano che tu lo puoi fare sei lì professionalmente e hai i titoli per farlo e quindi anche dal punto di vista formale è tutto ok se ci sono delle aree interdette al volo e tu hai fatto delle richieste per poterle per poterci volare ad esempio se sei all'interno di una tz e hai fatto una richiesta perché ti venga rilasciato un notam o se devi attraversare un'area proibita e hai fatto richiesta per l'attraversamento in area proibita allega anche i documenti che ti danno l'ok per fare questo oppure cita il fatto che sei è tutto ok in rispetto della normativa aeronautica e delle regole dell'area non sono tenuti le figure che lavorano in cantieri a sapere tutto quanto ma sei tu tenuto a saperlo e qualora dovesse succedere qualcosa hai dalla tua parte tutti i documenti che ti dicono che tu in quel momento potevi fare quello che stavi facendo e quello che è successo soltanto potrebbe essere un inconveniente un incidente che può capitare però nell'ambito di un'operazione del tutto legittima e autorizzata una parte importante riguarda ma su cui ci vado un po' veloce perché un po' te l'ho già detto riguarda le procedure operative questa forse è la parte più importante ed è la parte in cui tu devi dire che cosa farai in cantiere ma qui lo devi dire proprio per elenchi puntati quindi ti consiglio di utilizzare la semplicità di utilizzare un linguaggio semplice e uno schema semplice per essere letto e capito quindi l'elenco puntato è sicuramente efficace quindi dovrai dire che cosa farai dal tuo ingresso in cantiere ad esempio per un rilevo aerofotogrammetrico dirai ingresso in cantiere posizionamento del target artificiale d'alta visibilità iniziando dal target 1 2 3 poi passando al target 7 8 9 muovendomi all'interno della viabilità di cantiere secondo lo schema allegato avvicinamento al punto di decollo 1 decollo 1 e copertura dell'area 1 spostamento dal punto di decollo 1 al punto di decollo 2 e copertura tramite APR dell'area 2 rientro all'area di parcheggio rilievo stopografico con strumentazione GNSS dei target 1 2 3 nell'ordine in cui sono stati posizionati a terra e rimozione dei target e allontanamento dell'area di cantiere questo è importante perché così tutti sapranno che cosa farai e come lo farai a questo ci dovresti associare è per questo che ti consiglio di utilizzare un elenco puntato dovresti utilizzare anche dovresti associarci anche i tempi e i cronoprogrammi cioè se è importante sapere quanto tempo starai in cantiere perché dalla tua presenza potrebbero dipendere delle operazioni che vengono o meno sospese da parte del coordinatore per la sicurezza da parte della direzione lavori e ti assicuro che sospendere un'operazione in cantiere non è una cosa mai banale perché ci possono essere delle dinamiche in corso che possono soffrire della tua presenza o di un'interruzione delle maestranze potrebbero essere impiegate a fare qualcos'altro un'impresa che ha noleggiato un mezzo operatore lo deve tenere fermo perché ci sei te sta pagando perché quel mezzo lì comunque sia che lavori o che non lavori viene pagato come come noleggio per cui i tempi sono importanti non serve spaccare il minuto non serve neanche spaccare i dieci minuti però considera una mezz'ora di lasco per ciascuna delle operazioni che hai descritto prima e associa a queste operazioni un tempo piuttosto si cautelativo in eccesso per cui se sei insicuro se sei indeciso se ci metterai un'ora e un quarto un'ora e mezzo indica che ci metterai un'ora e mezzo e alla fine è molto meglio avere un operatore che dice di stare in cantiere quattro ore ma dopo tre se ne va piuttosto che un operatore che dice di stare in cantiere quattro ore ma dopo cinque ore ti chiede ancora mezz'ora perché deve finire le operazioni ti assicuro che piuttosto si cautelativo nella programmazione e nella stima dei tempi ma e poi vattene via prima esci prima piuttosto che doverci stare dopo rispetto a quanto hai pattuito perché su quello che tu dici poi vengono fatte delle delle valutazioni e vengono fatte delle scelte in termini di operatività se sei da solo di che sei da solo se siete più persone di che siete più persone alta visibilità sempre perché devi essere visto bene ma queste sono regole operative regole che ti vengono imposte altrimenti difficilmente entrerai in un cantiere e poi ci sono un'altra serie di operazioni di informazioni che tu potresti segnalare e sono legate alle comunicazioni agli enti locali gli enti locali i comuni le province soprattutto i comuni non hanno l'autorizzazione per bloccarti come operatore apr ma possono fare altre cose è la loro facoltà adesso queste cose devono essere ancora un po regolamentate però se ci sono delle se è opportuno avvisare la polizia municipale potresti farti aiutare dal rup o dire al che guarda rup che magari dell'ufficio lavori pubblici o l'ufficio ambiente l'ufficio territorio dovresti avvisare la polizia municipale e dirgli che io sarò in cantiere in quel momento a quell'ora potrebbe essere utile farsi aiutare da loro così come potrebbe essere utile farsi aiutare dal coordinatore per la sicurezza a prevedere delle aree di transennamento in modo tale che non ci sia nessuno sotto il drone durante le operazioni perché sotto il drone non ci può essere nessuno se non è direttamente interessato dalle operazioni tantomeno non puoi fare dei sorvoli su assembramenti siccome lui ha la possibilità la facoltà di gestire la sicurezza all'interno del cantiere può aiutarti utilizzando chiaramente l'impresa e le risorse dell'impresa a delimitare le aree in modo tale che il volo del drone sia ok da un punto di vista della normativa aeronautica e il fatto che non ci sia nessuno sotto le condizioni meteo condizionano l'utilizzo di un drone per cui considera il fatto che in questa comunicazione tu dovrai dire o meglio io ti consiglio di dire le operazioni sono previste per questa data non te l'ho detto prima ma è opportuno dire quando sarà la data delle operazioni ma io metterai sempre metto sempre una postilla metterò sempre metto sempre una nota in cui dico ma dovrà essere confermata e verificata preventivamente qualche giorno prima in funzione delle condizioni meteo perché condizioni meteo avverse o particolari rendono difficoltoso l'utilizzo di un apr in questo modo cosa stai dicendo stai dicendo che guardate che io programmo tutto per fare le operazioni in questo giorno tra qui tra tra le 9 e mezzogiorno tra le 9 e le 11 in questo lasso di tempo ma se c'è qualcosa che non va che non dipende da me sappiate che io lo devo riprogrammare per cui sono tutti consci del fatto che non è che sarà proprio in quel giorno e in quelle ore potrebbe essere anche in un altro momento se il meteo non lo permette questo è quello che avevo da dirti che ho condiviso nell'articolo del blog che ho scritto e che mi è mi ha fatto piacere condividere anche qui sul in questa puntata del podcast e riguarda le comunicazioni che potresti fare che dovresti fare che secondo me è opportuno sapere come fare quando entri in un cantiere ti ripeto ci sono tante persone che sono tante figure che sono interessate dalla conduzione di un'opera pubblica ognuno si occupa di aspetti diversi è importante che tutte sappiano che ci sei e che il tuo lavoro sia coordinato e sia ok per tutti quanti avrei potuto darti la stessa cosa che ho scritto nell'articolo avrei potuto dirti poi scaricarti questo questo documento che ho preparato ma ogni cantiere fa davvero storia a sé e fa ed è estremamente diverso da un altro cantiere anche se le lavorazioni sono le stesse se sono simili ma ci sono tantissime variabili che cambiano per cui io credo che sia più più utile per te prendere i concetti di questa puntata ti metto nel link dell'episodio anche l'articolo che ho scritto e farti il tuo la tua comunicazione il tuo modello che poi eventualmente puoi adattare a seconda delle aree dei cantieri in cui ti trovi a lavorare credo che sia più utile in questi casi il copia e incolla potrebbe essere un po' pericoloso potrebbe portarti potrebbe portare dei risultati non consoni a quello che devi fare entrando con un drone in cantiere spero che questa anche questa puntata magari non tanto tecnica un po' più divulgativa un po' più discorsiva ti sia stata utile se hai domande dubbi se vuoi un chiarimento se vuoi darmi dei suggerimenti o farmi delle critiche puoi farlo a telegram puoi mandarmi una nota audio o un messaggio su telegram a telegram.me slash paolo corradeghini mi piacerebbe invitare a avere delle altre puntate parlando di sicurezza con professionisti che sono molto più molto più focalizzati sulla sicurezza di quanto non sia io per cui magari ci saranno delle altre puntate specifiche sulla sicurezza nell'utilizzo dei droni all'interno dei cantieri se vuoi consigliarmi qualcosa dei nominativi dei professionisti se ti vuoi proporre come professionista ci facciamo una chiacchierate insieme sai che le porte di questo podcast sono sempre aperte trovi tutti i miei contatti su www.tradimetrica.it email profili social network linkedin facebook c'è il canale telegram di 3dmetrica se ti va veramente iscriviti al canale telegram di 3dmetrica che trovi a telegram.me slash 3dmetrica e lì ci scrivo ogni giorno condivido un po' di informazioni di aggiornamenti di dietro le quinte del mio lavoro è un canale molto molto informale intimo siamo in pochi in pochi per me siamo in tanti perché siamo quasi 300 ma è un posto dove dove comunico un po' di più e dove mi lascio andare anche con qualche foto di dietro le quinte di quello che faccio senza essere proprio sempre focalizzato su condivisione di contenuti specifici e tecnici io ti ringrazio del tuo tempo e della tua attenzione ti ringrazio per essere arrivato fin qua ad ascoltare questa puntata del podcast ti saluto fortissimo e ti do l'appuntamento alla prossima puntata del podcast di 3dmetrica ciao da paolo corradevini